5 4 3 2 1 100 vai al cartello destra 4 apre subito destra 3 più sale 3 più sale occhio vicinino occhio interno e array in ritarda tornante sinistra che interno subito destra 3 subito destra 3 per sinistra 4 tieni 30 array destra 4 2 tempi rotta 4 2 tempi rotta esce 50 sinistri rotti e al buco sinistra 4 rotto affine array tornante destra occhio interno 30 ai pili tornante sinistro occhio interno array destra 4 sinistra 4 e subito attenzione ritorno tornante altro stretto occhio interno affine array sinistra 4 30 array sinistra 5 per dopo la casa attenzione destra 3 molta attenzione sinistra 2 stretto 3 e molta attenzione sinistra 2 stretto tieni sinistra tieni sinistra 50 la retta destra 4 50 sinistra 3 diventa tornante sinistro diventa tornante sinistro esce destra 4 destra 5 al giallo sinistra 4 molto rotto 4 molto rotte subito tornante destro occhio interno 70 alla casa sinistra 4 attenzione ritorna subito tornante sinistro subito tornante sinistro esce a cielo destro 50 50 rotti destra 5 lunga occhio interno e sinistra 2 scusami è rotto occhio dove vai occhio dove vai in destra 4 taglia 50 attenzione array te sinistra per subito tornante destro array te sinistra per subito tornante destro apre 70 array tornante sinistro vai occhio occhio quando apri al giallo sfiora destra 50 molta attenzione al muro destra 3 lunga tieni 3 lunga tieni 20 al palo sinistra 4 per ritarda torrente destro interno esce sinistra 4 per al vuoto sinistra 4 meno tieni 4 meno tieni in sfiora sinistra per array sinistra 4 4 e accendo destro e subito alla piatta torrentino sinistro 30 destra 4 100 a vista per al cartello attenzione tornantino destro occhio interno occhio interno esce sinistra 4 vai là 20 al cartello retardo in versione sinistra 50 al secondo viene destra 4 apre 4 apre 50 dopo il cartello scompone accendo destro 20 accendo destro diventa destra 4 accendo destro diventa destra 4 e subito sinistra 3 meno lunga tieni tieni apre alla fine sfiora destra al miro 30 al cartello accendo sinistro 50 dai sinistra però alla spiga destra 4 meno apre alla spiga destra 4 meno apre 70 rotti 70 rotti al cartello rovescio sfiora sinistra il accendo destro 100 rotti 100 rotti al rail destra 4 4 30 alla spiga sinistra 3 e destra 4 ovvio c'è la sequenza sinistra 5 alla chiesa destra 4 lunga prescende occhio qua eh apre lunga tiene tiene il raccartello accendo destro 50 sinistra 3 sinistra 3 non esagerare non esagerare 30 sinistra 5 il raccartello destra 4 meno tieni 4 meno tieni meno tieni 30 sinistra 4 lunga tieni occhio che vicido eh 30 a fine siepe occhio destra 4 occhio destra 4 e sinistra 5 e destra 4 30 sinistra 4 e destra 4 occhio al culo e sinistra 4 al muoretto destra 5 e sinistra 5 e destra 5 50 alla spiga sinistra 3 50 alla spiga sinistra 3 non tagliare eh non tagliare 20 20 alla spiga destra 3 apre all'ultimo biro sinistra 4 meno 4 meno e destra 5 100 alla spiga destra 3 subito sinistra 3 subito sinistra 3 40 alla casa destra 3 apre vai 3 apre vai il raccartello rovescio accendo sinistro accendo destro vende al cartello sinistra 3 vende al cartello sinistra 3 3 subito inversione sinistra destra 3 chiude 2 tieni chiude 2 tieni chiude 2 tieni subito sinistra 3 meno 3 meno in al cartello destra 3 meno e subito sinistra 2 e subito c'è un 2 ok e tieni accendo destro attenzione tornante sinistro attenzione tornante sinistro perché le staccate andre che c'è viscito di destra 3 meno 3 meno tieni 3 meno tieni 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 30 destra 4 4 oh ok grazie a tutti Grazie a tutti